Ciao a tutti, nel video di oggi, Fedez annuncia l'uscita della sua nuova canzone e chiede a Leo, che l'ha già ascoltata, di dargli un giudizio. Ma lui, ovviamente, dice che non gli piace. Vi lascio al video, buona visione. Chi ha ascoltato la canzone nuova del papà, ti senti di dire che è molto bella? No, un voto da 1 a 10? Ah, così. Ho potuto specificare che è una canzone nuova perché mia moglie ha detto che sembrava che stavano girando un film. No, è che non era chiesto. Ma si capiva, vero che si capiva, Patato? Bravo, mamma gang. Mi sembra il papà, in teoria. Ma dai, ma non mi somiglia. Cosa hai detto, amore? Come sembra il papà, dai. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.